Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora sappiamo che quando parte una polemica poi non finisce nell'immediato perché c'è sempre un seguito e rispetto alla posizione della Commissione dell'Unione Europea a riguardo problemi di razzismo in particolare e gli attacchi sui giudici c'è anche un seguito perché la Commissione Europea rincarra la dose accusando praticamente l'Italia in generale ed in specifico ancora una volta i poliziotti di essere razzisti nei confronti dei Rom in maniera ancora più specifica che è pretestuosa il fatto di fermare i Rom da parte dei poliziotti perché questo è dovuto solamente al fatto che siamo razzisti. Non è che a questi geni dell'Unione Europea venga in mente che magari i Rom vengono spesso fermati perché la cosa che maggiormente perseguono è il furto. Lo sappiamo che il 99% dei Rom è adito al furto cioè commettono piccoli grandi medi furti in appartamenti sulle metropolitane e così via. E quindi è normalissimo anche statisticamente che siano maggiormente coinvolti in controlli ed infermi da parte dei poliziotti. Invece andatevelo a leggere la Commissione dell'Unione Europea dice esattamente così che c'è un accanimento in pratica da parte dei poliziotti italiani e delle istituzioni italiane nel fermare i Rom il che dimostra che siamo razzisti. Ora vedete è fin troppo chiaro dove vuole arrivare questa Europa, un'Europa non più del diritto che vuole anche dire la salvaguardia oltre che dei propri confini di come si svolge la vita all'interno delle città. Noi abbiamo sempre detto, lo abbiamo sottolineato, continueremo a farlo, che noi auspichiamo che ci siano delle città maggiormente sicure, con meno delinquenza, meno furti, meno stupri, meno situazioni critiche che impauriscono i cittadini italiani. E questi reati in abbondanza, ma non perché lo dice il sottoscritto, ma perché basta andarsi a vedere le statistiche, le commettono gli stranieri. E quali tipi di stranieri? In prima fila sono i nordafricani seguiti immediatamente da personaggi dell'est Europa, questo a livello di categoria, poi sudamericani e così via, mentre non troviamo australiani, molto meno filippini, quasi niente, poco i cinesi e così via. Quindi voglio dire, e il fatto è molto molto semplice, anche le carceri sono affollate da stranieri, che pur essendo ovviamente in stragrande minoranza rispetto agli italiani, però nelle carceri sono in maggioranza, il che vuol dire che in Italia arrivano soprattutto delinquenti, in percentuale molto elevata, non solo, perché per carità ci sono anche tantissimi stranieri che sono bravissime persone, che vengono per lavorare, vengono per mantenere la propria famiglia, ma in molti casi invece per delinquere. Ecco, questa è la posizione dei signori dell'Unione Europea che accusano l'Italia da questo punto di vista, il che ci fa pensare che tipo di Europa vorrebbe avere questa Unione Europea. E tra l'altro si soffermano su un altro punto accusando l'Italia, che sono i diritti LGBT. E anche qui non è un problema, voglio dire, di non rispettare o di essere omofobi, perché è la stessa storia del razzismo. Io non sono assolutamente omofobo, ho citato tantissime volte dei dichiarati omosessuali nel nostro paese che sono il vanto del nostro paese. Io cito sempre Dolce Gabbana, ma ce ne sono tanti altri. A me piace tantissimo ad esempio anche Malgioglio e tanti, tanti altri. Ma ci sono quelli, come tanti che partecipano al Gay Pride e in altre circostanze che io detesto e detesterei alla stessa maniera che se al posto di essere un Gay Pride fosse un Etoro Pride e questi si comportassero in quella maniera. Quindi è sempre una strumentalizzazione da parte della sinistra e in questo caso da parte della Commissione dell'Unione Europea che dice noi siamo stati in Italia con i nostri uomini e abbiamo verificato questo. Avete verificato un bel nulla, avete verificato quello che volevate verificare e avete scritto quello che volevate scrivere, perché gli italiani non sono questi. Gli italiani amano la famiglia e in quanto amanti della famiglia la vogliono anche proteggere e avere in luogo pubblico oppure attraverso la televisione certi spettacoli noi lo rifiutiamo. Sappiamo che nei paesi del nord e in altri paesi se ne fregano di meno di tutto questo. A noi invece questo importa, noi su questo stiamo molto molto attenti e quindi quando ci sono questi episodi interveniamo che non vuol assolutamente dire essere omofobi ma semplicemente stigmatizzare dei comportamenti assolutamente inaccettabili. Cara Commissione Europea, noi non vogliamo un'Italia come la dipingete voi e come la vorreste avere voi e per questo ci batteremo. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.